Ormai era un anno, tre mesi, quattro giorni, cinque ore e ventidue minuti, anzi ventitré minuti che avevo chiuso definitivamente la mia attività di supereroe. Nessuno mi conoscerà più come Mokka Man, ma come Eugenio Ubaldi, umile postino e padre debito. In realtà non era proprio mia la scelta di voltare le spalle all'umanità, che ovviamente ha ancora molto bisogno di me, ma era di quella stron, pardon, della mia ex moglie, che minaccia di togliermi l'affidamento del mio amato figlio Ubaldino Junior, luce dei miei occhi. Oggi avrà la sua prima recita scolastica. Quanto son fiero del mio Ubaldino. E tu che ci fai qui? Sto tentando di stare più vicino possibile al cielo. No, dai, dimmi il vero motivo. Eh, così era scritto. E dove? Qui. Ah, ok. Ciao. Ciao. Eccola lì, quella stron, pardon, della mia ex moglie. Ciao, Ubaldino. Ciao, Ubaldino. Ciao, Ubaldino. Ciao, ciao. Scommetto tutti i chicchi dell'universo, che ora verrà a rompermi i coglioni. Stai tranquilla. Non ti preoccupare. Va bene, ho capito. Chiaro? Capito, va bene. Che cruccio. Che peso. Il mondo da una parte e il mio Ubaldino dall'altra. Non fu una scelta facile. Ma ogni volta che lo guardo negli occhi, sono sempre più convinto di aver fatto la cosa giusta. Papà, ti fa male se faccio così? Ubaldino dove? Non ti preoccupare che il mio non è niente. Non è niente, davvero. Dovevi andare a cambiarti per la vesica? Sì, sì, scappo. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Laura, camerino. Grazie. Dove vi ho? Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao da questa parte. Ciao, ciao. Ciao, papà. Ciao, papà. Ciao. Ciao, papalino mio. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh, arci chicco di caffè boliviano importato. Ma quei due hanno facce familiari. Guarda che bel figliolo hai qua, Mockhamen. Ti ricordi noi, Mockhamen? Ma certo, sono i fratelli Nero Pece. Ma che ci fanno qui? Non vorranno far esplodere anche questa scuola? Te vogliamo, non due. Te vogliamo. Ci facciamo un culo così, Mockhamen. Hai capito? Ah no, forse uno di loro ha un figlio nella recita. Un momento, ma quello è mio figlio. È nostro il cielo, è nostro. Mockhamen. Papà. Paldino. Dai, ti porto alla recita. Dai, Paldino, veloce, veloce che tocca a te. Vai. Loro una volta lavoravano per la luce, ma poi Oscurator, il signore della notte, li chiamò a sé e gli regalò metà del cielo. Loro sono l'oscurità e più cose malvagie fanno, più il buio si diffonde. Oscurator, non ti lascerò mettere le mani sull'altra metà del cielo. E' solo un fiore. C'è un moca drink. Papà, prendi. Grande, Ubaldino. Il ritorno di Mokhamen. Ok. Ora il mondo è più sicuro. C'è un po' di Mokhamen. Grazie a tutti Grazie a tutti